C'è bisogno di incentivi economici, ambulatori, gratuiti all'interno dei comuni, bonus e rimborsi per far sì che i medici di medicina generale prendano servizio nei paesi dell'entroterra, nelle zone montane, nei centri al di sotto dei mille abitanti. In Abruzzo mancano più di 200 medici di famiglia perché negli ultimi mesi, a causa dei pensionamenti, intere comunità sono rimaste senza un punto di riferimento, ma insieme all'UNCEM abbiamo elaborato una proposta di legge da sottoporre alla Regione che consentirà di risolvere il problema. E quanto afferma il Tg8, il segretario della FIMG Abruzzo, la Federazione dei medici di medicina generale Mauro Petrucci, parlando dell'iniziativa messa in campo insieme all'Unione Nazionale dei Comuni, Comunità e Enti Montani. Solo nella Aslanciano-Vasto-Chieti mancano 40 medici, la carenza non riguarda soltanto i piccoli comuni delle aree interne, ma anche delle zone urbane, tra cui le città di Vasto e Chieti. I comuni montani abruzzesi sono 224, su un totale di 305, di cui 133 hanno meno di 1000 abitanti. Sono numeri che rendono bene l'idea delle criticità sul territorio. La Regione è chiamata a stanziare dei fondi ad hoc per evitare che i residenti restino sia senza medici di famiglia che senza pediatri. Abbiamo pensato che in questo discorso potevamo inserire anche delle premialità e degli incentivi per i giovani medici che venivano convenzionati e che magari anziché scegliere di andare in un'area urbana, a fronte di questi incentivi potrebbero andare nelle aree interne. Si è pensato che possono avere una copertura per tre anni, rinnovabile a tre anni, perché noi prevediamo che la gobba pensionistica che sta determinando questa carenza dei medici nel giro di 5-6 anni, secondo le proiezioni del nostro ente pensionistico Empan, si andrà ad esaurire. Quindi fra i 5-6 anni dovremo tornare a regime tra il numero di laureati, tra il numero di specialisti e le esigenze delle carenze. Quindi gestire e governare questo breve periodo con degli incentivi che vanno appunto sia da una remunerazione tipo economica, ma anche magari con dei punteggi per le graduatorie, dando dei punteggi maggiori rispetto a chi va nelle aree urbane e quindi magari dopo 3-6 anni, se loro vorranno, potranno anche trasferirsi nelle altre aree e quindi però nel frattempo creare le opportunità di convenzionamento in queste aree interne. La Federazione dei Medici di Medicina Generale in Abruzzo sta affrontando anche il problema dell'affollamento dei pronto soccorso degli ospedali, dovuto spesso a lunghe liste di attesa per effettuare esami diagnostici e visite specialistiche, ma anche alla carenza dei medici di famiglia. Purtroppo cosa accade? Che dopo 2-3 anni di pandemia le liste di attesa sono diventate un pochettino difficili da gestire e da governare, per cui ci sono gli arretrati più gli ordinari dal punto di vista di visite e di esami da fare. Quindi molte persone pensano che andando al pronto soccorso di accorciare questi tempi di attesa e quindi a prescindere dalla nostra volontà sono persone, sono pazienti che ci bypassano e vanno direttamente al pronto soccorso con codici bianchi inappropriati perché non sono codici e interventi da pronto soccorso. Allora abbiamo iniziato un discorso di collaborazione con il primario e i medici del pronto soccorso di Chieti, un discorso di analisi dei dati, perché se non analizziamo i dati, i flussi, da dove vengono queste persone, per quale patologie, in che giorni della settimana e in che orario, perché questo ci serve per fare una fotografia della situazione, li stiamo elaborando e saranno un oggetto di discussione il 20 maggio in un convegno che faremo, dove andremo ad affrontare tutte le problematiche di accesso al pronto soccorso per individuare e perseguire quelle che possono essere le soluzioni per mitigare questo problema. Quindi stabilire quali sono i processi da seguire per andare al pronto soccorso o meno e magari andare a individuare anche altre postazioni che sono i punti di primo intervento, che sono a un livello più basso dell'emergenza del pronto soccorso, che però possono dare una risposta altrettanto efficace. Quindi stiamo facendo un grosso lavoro da questo punto di vista e il 20 maggio sarà l'occasione per tirare le somme e cercare di individuare un protocollo che ci deve vedere collaborare medici del pronto soccorso dell'ospedale e noi medici di famiglia nell'indirizzare in maniera corretta i pazienti in ospedale. Quando un paziente deve realmente preoccuparsi e recarsi al pronto soccorso e non dal proprio medico di medicina generale? Sono i cosiddetti codici gialli e codici rossi dove c'è un'emergenza, dove ci sono delle necessità sia dal punto di vista diagnostico che terapeutiche che non possono essere date in un ambulatorio del medico di famiglia. Se devo fare degli esami urgenti, se devo fare un attack, se devo fare un elettrocardiogramma urgente, se devo fare un dosaggio di enzimi cardiaci perché ho il sospetto di infarto e devo monitorare, chiaramente questo va fatto in un ambiente idoneo, quale può essere quello del pronto soccorso. Diverso è se io ho un problema non acuto, che non rientra in questi criteri qua. Noi dobbiamo capire una cosa, noi continuiamo a chiamare pronto soccorso quello che lui era pure 20-30 anni fa, dove questo pronto soccorso poteva stare in qualsiasi ospedale e l'approccio non cambiava. Oggi non è così. Faccio un esempio, se ho un infarto acuto io devo sapere dove poter andare per poter avere una risposta efficace. Allora se io so che all'ospedale clinicizzato di Chieti c'è la cardiochirurgia, c'è una cardiologia adeguata che mi può venire incontro facendo una coronariografia d'urgenza, posizionandomi in un stand o addirittura portandomi in sala operatoria per una coronariografia, allora io devo sapere che devo andare in quella struttura. Non posso andare in un'altra struttura dove queste tecnologie non ci sono. La stessa cosa se ho un problema di tipo neurochirurgico acuto. Non posso andare. Quindi è importante educare e spiegare alla gente come gestire e come usare l'accesso al pronto soccorso.